Ben trovati al TG7 Basilicata da Gerarda Cerone. Iniziamo con la cronaca Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Potenza. Sono intervenuti in contrada a Seconda Serralta a Picerno per un incendio in un'abitazione. Giunti sul posto hanno trovato un'abitazione a due piani, pieno terra costruito in pietra e il secondo piano costruito perinteramente in legno, completamente avvolta dalle fiamme. Sono intervenuti anche i carabinieri e il 118. Si è svolto nel comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Potenza una breve cerimonia di commemorazione dei tre Vigili del Fuoco di Alessandria deceduti a seguito del crollo di una cascina dopo un'esplosione avvenuta il 5 novembre 2019. Alla cerimonia hanno partecipato il direttore regionale dei Vigili del Fuoco di Basilicata, Boscaino, il comandante provinciale, sempre dei Vigili del Fuoco di Potenza, Panzone. All'interno del pezzale del comando si sono schierati uomini e mezzi osservando un minuto di raccoglimento scandito dal suono delle sirene e dalle luci dei lampeggianti, rendendo così onore alle vittime. I pompieri di Potenza hanno voluto mostrare la loro vicinanza alle famiglie dei caduti e al personale dei Vigili del Fuoco del comando di Alessandria. Andiamo all'ultima notizia. Nell'ambito dei servizi disposti dal questore di potenza per verificare rispetto delle misure anticovide per il contenimento dell'emergenza epidemiologica, il personale della Polizia di Stato in servizio presso la divisione della Polizia Amministrativa e Sociale della Questura ha effettuato mirati e capillari controlli, soprattutto nei confronti dei cosiddetti esercizi di vendita di alimenti e bevande H24, tramite distributori automatici che notoriamente rappresentano luoghi di aggregazione dei giovani. Nel corso dell'attività in questione sono stati controllati dieci esercizi dislocati tra il centro storico di Potenza e le zone limitrofe, rilevando che alcuni di loro consentivano la vendita di alimenti e bevande, nonostante il divieto imposto dall'ordinanza emessa dal sindaco di Potenza, che prevede l'accessazione dell'attività di vendita alle ore 21. Le infrazioni rilevate saranno contestate, esenti dell'attuale normativa vigente per il contrasto della diffusione della pandemia da Covid-19, che prevede una sanzione amministrativa da 400 euro a 1000 euro. Io come ogni sera vi ringrazio per l'ascolto e vi do appuntamento a domani.